Pescara al centro dell'attenzione del mondo dell'innovazione nella due giorni di novembre nel contest di Confindustria Chieti Pescara che oggi ha presentato il premio campioni di innovazioni per piccole e medie imprese, start-up, spin-off universitari. A vincere i riconoscimenti saranno i candidati che presenteranno i propri progetti in termini di innovazione di prodotto, di processo o organizzativa. L'innovazione è un format diventato di successo, hanno detto i promotori, anche grazie alla collaborazione con le aziende del territorio e le multinazionali che credono nel valore del fare impresa, unendo creatività, valori ed economia. L'appuntamento è promosso dalla sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara con il patrocinio del Comune di Pescara. E per l'entera presente l'assessore Eugenio Seccia. La parola ora al presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca. Noi ci teniamo molto, basti pensare, do un dato per far capire anche in che direzione sta andando il mondo, due settimane fa Adobe, che è una grande multinazionale software, ha acquisito un'azienda per 20 miliardi di euro. Questa azienda è stata fondata come start-up nel 2012 da un ragazzo che allora aveva 20 anni, quindi non era ancora pronto per l'università. Quindi cosa significa? Significa che noi abbiamo una grande esigenza di liberare le energie, abbiamo bisogno dei giovani, abbiamo bisogno di seguire questo megatrend mondiale e quindi con innovazioni noi intendiamo portare e mantenere viva questa attenzione. Insomma c'è entusiasmo attorno a questa iniziativa. Cristiano Fino, vicepresidente della sezione, referente del progetto. Beh, siamo arrivati ormai alla non edizione, quindi insomma abbiamo una certa esperienza sulle spalle e anche quest'anno abbiamo voluto dare uno stimolo maggiore all'evento, cercando di migliorare sempre di più in un'ottica appunto anche essa innovativa se vogliamo dato che parliamo di innovazione. Resta il format relativo al contest, il format poi si naturalmente associerà anche all'Innovation Hackathon, questa gara di idee che facciamo sempre ogni anno abbinata appunto all'evento in cui vengono coinvolti gli studenti universitari delle università abruzzesi, della Politecnica delle Marche e della LUIS di Roma. In più quest'anno la novità sarà rappresentata da questi due Innovation Talk che noi faremo nella giornata di venerdì, la mattina e il pomeriggio, all'interno dei quali inviteremo personaggi molto importanti di spicco che appunto ci verranno a parlare di tutto ciò che è innovativo nei vari settori. Quindi non saranno soltanto personaggi che si occupano dell'ambito tecnologico. Grazie a tutti.